E' un 2018 in chiaroscuro quello tracciato dal WWF per quanto riguarda la tutela dell'ambiente con l'associazione che mette in evidenza la criticità principale che riguarda l'abruzzo faunistico, la tutela dell'orso. La perdita del 5% della popolazione mondiale dell'orso Bruno Marsicano è un problema per tutti noi abruzzesi, spiega il vicepresidente del WWF Dante Caserta, sottolineando il problema delle aree protette. Parco Sirente Velino senza direttore e senza presidente da anni, Parco della Maiella senza presidente. Altro elemento, il mare, si calcola che se continueremo a buttare in mare la quantità di rifiuti di plastica che abbiamo buttato fino adesso, nel 2050 ci sarà più plastica in mare che pesce. Dobbiamo assolutamente invertire questa cosa, ci sono delle iniziative legislative molto importanti, noi chiediamo anche alla regione Abruzzo di anticipare gli effetti di queste normative e fare una politica proprio plastic free, cioè libera dalla plastica, che è effettivamente un problema molto grande. Il presidente regionale del WWF, Luciano Di Tizio, ricorda come l'associazione ambientalista in Abruzzo abbia effettuato nel 2018 centinaia di interventi. Un altro problema grosso è quello dell'acqua del Gran Sasso. Non si riesce, dopo ormai un lunghissimo periodo di tempo, non si riesce a trovare una soluzione perché l'acquifero è al di sotto dell'autostrada e del laboratorio del Gran Sasso. Bisogna metterli in sicurezza e soprattutto bisogna fare cose trasparenti. Non si possono gestire i problemi che riguardano tutti i cittadini tenendo i cittadini all'oscuro. Grazie.